Come i cinesi del Perù vivono bene adesso? Sì, è ancora una bella comunità? 160 anni, 165 anni fa è arrivato il primo gruppo. E lei come vede il futuro della chiesa in Cina? È molto difficile, anche già il Papa Benedetto ha ricordato tanto alla comunità cattolica che preghiamo tutti per la Cina, il Papa Francesco è uguale. Ricorda che siamo solo una chiesa, tutti siamo fratelli. Monsignor Ciao, che cosa le è piaciuto di più oggi in Duomo A30? La grande solennità, il coro, bravissimo e la grande partecipazione di tutto il popolo. Si è parlato molto di missione che non è solo in America Latina per noi. Sì, la missione, credo che la nuova evangelizzazione è per tutta la chiesa. Dobbiamo essere un cuore missionario. Tanti auguri eh? Grazie. Venga ancora a Trento però. Ah, si mi invita. Grazie. Grazie.